Sarebbe interessante qui mostrare come non solo la cultura cristiana, ebraica e cristiana, partano da una concezione della civiltà che principia da una trasgressione di un ordine divino, anche la cultura greca con Prometeo, il gesto di Prometeo è un gesto di ribellione verso il divino, un assalto al cielo. Cosa dice Genesi 3, 1, 6? Morirete affatto, anzi Dio sa quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Ecco, come Edipo pecca di Ubris e pretende di sapere tutto, così anche Adamo ed Eva fanno con sfrontatezza valere il desiderio di sostituirsi a Dio, conoscendo il bene e il male, pretendono di superare la logica del limite e quindi Dio diventa in qualche modo, anche in questa prospettiva, l'immagine della legge, l'immagine del nomos, che viene superato. Da questo punto di vista la nostra civiltà è la civiltà che quotidianamente fa del superamento del limite, l'orizzonte fondamentale. Come dicevamo, è la struttura originaria stessa del capitalismo, l'idea del superamento dei limiti. E quanto più si sviluppa il capitalismo, tanto più i limiti devono essere superati. Per questo, negli spazi reificati della civiltà contemporanea, non esiste più il limite della physis greca, non esiste più il limite del Dio cristiano. Siamo nel tempo dell'apeiron, dell'assenza di ogni limite. E quel che è peggio è che questa assenza di limite, che da un punto di vista cristiano, ma anche da un punto di vista greco, sarebbe da considerarsi e da condannarsi come perdita di ogni senso, viene invece vissuta oggi come chance di emancipazione. La cultura fintamente trasgressiva e segretamente conservativa delle logiche stesse del capitale è quella per cui libertà significa trasgredire i limiti, libertà significa violare il non ancora violato, libertà significa andare sempre oltre. È il cattivo infinito, diremmo eghelianamente. Voi sapete che in tutte le tragedie greche, in Eschilo, come in Sofocle, in Euripide, l'elemento tragico scaturisce sempre dal superamento di un limite, dalla hybris. Qual è la colpa di Edipo? Abbiamo detto, triplice, tre volte viola il limite. Qual è la colpa di Ajace? È quella di volersi sostituire agli dèi, anche lui. Non ho bisogno degli dèi, basto a me stesso. Qual è la colpa dei persiani, di Eschilo? È quella di voler superare ogni limite addirittura, soggiogando il mare alla propria potenza, costruendo un ponte sul mare. Ecco, possiamo dire, citando Emanuele Severino, che la tecnica è la condizione per l'attuazione di qualsivoglia fine.